Ok, buonasera a tutti, mi scuso per il grande ritardo a cui sto facendo questo video riguardante la partita tra Torino e Fiorentina che c'è stata ormai due settimane fa e mi scuso veramente tanto per questo ritardo incompreso però ho avuto degli impegni di una certa importanza quindi la partita non l'ho vista ho guardato adesso a distanza di due settimane gli highlights per farmi un'idea su cosa poter e dover dire a questo proposito e posso dire che il Torino ha fatto comunque una gran bella partita pareggiata 1 a 1 con il dodicesimo gol in stagione di Tony Sanabria che ha avuto veramente una buona, è in una condizione di forma molto buona e infatti ha segnato di nuovo per l'ennesima volta in campionato purtroppo è servito solo per un pareggio che contro la Fiorentina diciamo che serve o non serve perché comunque dopo i tre punti contro il Verona ci si aspettava sicuramente molto di più però è comunque un pareggio che porta a casa un punto a testa in vista della partita contro lo Spezia posso andare a delencarvi un attimo velocemente le statistiche come faccio di consueto la formazione e poi vi saluto allora le statistiche sono state 10 tiri totali contro gli 8 del Toro tiri in porta 4 contro 1 sempre a favore del Toro possesso pala 57 contro il 43% della Fiorentina passaggi veramente assurdi perché 505 per il Toro e 376 per la Fiorentina precisione nei passaggi 84 a 77 falli 9 a 11 abbastanza fallosi in realtà i Fiorentini poi ammunizioni 2 a 1 a favore della Fiorentina espulsioni nessuna fuorigioco 5 addirittura per il Toro 1 per la Fiorentina calci d'angolo 3 a pari in parità le formazioni diciamo che il Toro si si va sempre in campo con più o meno la stessa formazione nel senso che aveva Milinkovic e Savic in porta con 3-4-2-1 sempre a solita punta con Gigi Schurz buongiorno in difesa Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez, Vlasic, Karamo e Sanabria che poi si sono scambiati con Pellegri, Lazzaro Aina che è tornato in gruppo e anche Miranciuk oltre a questi disponibili Baglie, Gravillon, Zima che finalmente è tornato dopo un lungo recupero diciamo da gennaio quindi da inizio campionato ormai è rientrato praticamente per le ultime partite poi Vierà, Adopo, Sec, Voivoda, Linetis, Fiorenza, Linetti e Gemello e dall'altra parte 4-3-1 4-2-3-1 anche per la Fiorentina con Cerofolini Venuti, Martinez, Igor, Terzic Duncan, Mandragora, Ex Toro Samponara, Barak, Sottile e Quame disponibili Ljovic che è stato poi quello che ha segnato Icone, Aranieri, Alessandro Bianco, Brecalo, Ex Toro anche lui Terracciano, Dodò, Biraghi, Milenkovic, Cabral e Castrovilli e per finire Caio De e Bannucchi e niente questo è quello che posso dirvi riguardo alla partita avvenuta il 21 di maggio contro la Fiorentina e niente adesso vi aggiornerò in un prossimo video sulla partita che anche quella non ho visto ma vi potrò dire qualcosa in più rispetto a questa in quanto a proposito della partita contro lo Spezia e poi aspettiamo con ansia e anche un po' di timore la partita di sabato sera contro l'Inter ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti